E' iniziato ieri il React Field Festival o REF, se preferite, una rassegna cinematografica made in Catanzaro, promossa dal direttore artistico Giovanni Carpanzano, in cui a essere proiettati e giudicati sono i cortometraggi, opere divise in categoria a seconda del genere. La Tre Giorni, dedicata al cinema, avrà come madrina la bellissima Valeria Altobelli. Da rimarcare l'aspetto legato alla valorizzazione del territorio prodotto dalla manifestazione, che in un periodo non certo di grande fermento per la città, qual è l'inizio di ottobre, porta nel cuore del centro storico dello stesso capoluogo, nell'elegante cornice del teatro comunale, personaggi di assoluto rilievo del panorama culturale e dell'informazione italiana. Il riferimento, ad esempio, è uno dei giurati, Silvana Giacobini, direttrice di note riviste di costume italiane e volto familiare al grande pubblico. Beh, arrivare la prima volta in un posto, in una manifestazione è una bella emozione, però tornare lo è ancora di più, perché quando ti viene dato un attestato di fiducia del genere da ragazzi molto molto bravi, competenti, soprattutto che guardano al futuro con un occhio di grande positività e di grande fattività, perché comunque in un mondo che va sempre più veloce, secondo me il linguaggio del corto è un linguaggio da riscoprire, perché le serie tv, insomma tutte le opere di più semplice fruizione rispetto ai famosissimi blockbuster, sono sicuramente un qualcosa che sta spopolando nel mondo, non ce lo possiamo nascondere. Ecco, apre la pista gli Stati Uniti, ma l'Italia, insomma, che ha una grande arte, direi cinematografica, una grande arte teatrale e in tutte appunto le rappresentazioni che riguardano quello che ci rende forti nel mondo, che è il Made in Italy, soprattutto nell'arte, non possiamo non notare questo cambiamento. Quindi la cosa fondamentale è che vedo un gruppo di giovani che sta insegnando ai giovani, ho visto con grande piacere, con grande gioia, i ragazzi che studiano, ecco appunto che si accostano alle arti visive cinematografiche, aiutare in prima persona ed essere partecipi in una sorta di workshop interattivo, non solo ecco che sia un qualcosa di teorico, ma che sia anche un qualcosa di pratico, quindi questo per loro è un grandissimo momento, è una grande opportunità che loro devono cogliere al massimo perché rappresenteranno appunto le generazioni che faranno arte nel futuro e qui ho visto una grande scuola, una scuola retta da professori e da rettori, insomma di tutto rispetto, da cui esce il nostro patron, caro amico Giovanni Carpanzano che ha, devo dire, rivoluzionato l'ottica del festival, perché questo è un festival che tende molto a sottolineare le peculiarità territoriali, ma a farlo in una visione panottica, in una visione onnicomprensiva, perché arrivano qui corti da tutto il mondo, quindi questo testimonia l'importanza e soprattutto l'attenzione che si ha nei confronti delle cose che valgono, delle cose positive e insomma, ripeto, è un onore tornare, è un onore, sono anche, non nascondo un'emozione proprio interiore a livello proprio di vicinanza alla famiglia Carpanzano, a Benedetta, a Giovanni e a tutta la famiglia, che è una famiglia molto stimata ma perché è una famiglia che ha riconosciuto quella via pulcritudinis di cui questa mattina parlava il responsabile del corso universitario, il professore che è anche direttore e appunto reggente esatto del corso universitario, quindi la via per la bellezza è quella che può salvare il mondo e la bellezza sta nell'arte, la bellezza non è un qualcosa di oggettivo, la bellezza sta in quello che si trasmette, quindi nulla in maniera migliore dell'arte riesce a trasmettere quelli che sono i canoni, se vogliamo anche soggettivistici della bellezza, perché comunque ripeto, c'è una giuria ma se tutti si trovano concordi nel premiare un'opera significa che quell'opera è bella e la bellezza, ripeto, a livello totale, quindi caleidoscopica a 360 gradi è una bellezza che davvero, come diceva Oscar Wilde, può salvare il mondo, quindi ci auguriamo questo, di partire da questo color magenta, da questo fucsia che rappresenta un carpet diverso, volutamente, proprio perché si deve dare fiducia alle persone che vedono delle cose diverse da quello che vede la media delle persone, è un dono, è un dono, quindi se si seguono queste persone sicuramente si riuscirà a sperare e ad ottenere un futuro migliore, perché c'è sempre tanta meritocrazia di base, a questi ragazzi non ha regalato nulla a nessuno, ai registi che si sono presentati non ha regalato nulla a nessuno e dietro ogni successo c'è sempre un grande lavoro, senza lavoro il successo, insomma, non si raggiunge, anche perché, come dice qualcuno, successo è il participio passato del verbo succedere, quindi sono cose che sono nell'icc et nunc, ma si deve sempre guardare avanti, perché il successo non è mai definitivo, ma si deve sempre aspirare al meglio come stanno facendo questi ragazzi e come sta facendo il ref. Sicuramente sarà duro il compito dei giurati, perché comunque i criteri selettivi sono sì talmente soggettivistici, ma sono anche oggettivi da un certo punto di vista, quindi non vorrei essere nei panni dei nostri illustri giurati e non a caso Giovanni, eccolo, ha sottolineato appunto innanzitutto l'importanza dei giurati, c'è da Cristian Marazziti, regista, a Sondra Sottile che arriva dagli Stati Uniti, a Umberto Garibaldi che appunto fa parte di Red Carpet Magazine, questa sera c'è Silvana Giacobini con noi, quindi insomma, Daniele che rappresenta il mondo anche della produzione, quindi una compagine di giurati che rappresenta delle sfaccettature diverse, un Giano Bifronte della stessa medaglia, quindi insomma bisogna valutare lati diversi anche in un'opera e ci vogliono delle persone competenti per quel lato specifico, per riuscire a dare un giudizio che sia un giudizio effettivo e soprattutto che sia un giudizio meritocratico, a noi piace questa parola, la REF, meritocrazia sempre e comunque. Questa seconda edizione del REF è un'edizione veramente speciale perché oltre all'Academy che continua con le nostre masterclass abbiamo avuto dei corti di grande qualità, questa sera c'è l'animazione, domani il narrativo ma sono come l'anno scorso 300 e più corti da tutto il mondo, quest'anno c'è stata molta più Italia di alto livello che ha un po' ripreso il valore del cinema italiano. Una delle cose che mi entusiasma sempre è scegliere cinque personaggi della cultura della città di Catanzaro a cui dare il lupo d'oro. Il lupo d'oro è un premio diciamo alla carriera o comunque un premio per l'impegno culturale che un mecenate, un artista, un curatore, un direttore ha svolto durante l'anno che è trascorso. Quest'anno abbiamo dei nomi importanti, sono felice di aver ospitato anche personaggi del mondo del cinema italiano e sono convinto che col tempo questa pratica del lupo d'oro diventerà insomma un appuntamento importante anche in Italia. Quest'anno lo ha scolpito lo scultore Giuseppe Guerrisi, l'anno scorso Pierluigi Portale perché l'obiettivo è quello di fare alla fine una grande collezione d'arte in cui ogni artista contemporaneo interpreta il lupo. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.